Sera, qui a scalo 110 e molte grazie a Gianni per aver fatto queste cose possibili, anche grazie per i musicisti, anche per Gianni Fiorillo, anche io ho fatto questo possibile. E i nostri amici di Roma, il signor Riccardo Fassi, piano, e Mauro Battiste, basso, tra basso. Far away from me Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti. Grazie a tutti.